Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi andremo a vedere i prismi. Nelle lezioni precedenti abbiamo introdotto i primi due poliedri, ovvero il parallelepibbido, in particolare il parallelepibbido rettangolo e il cubo, ne abbiamo studiato le definizioni e le caratteristiche e abbiamo visto insieme le applicazioni delle formule per trovarne l'area delle superfici e il volume. Ora ci muoviamo verso un altro poliedro, appunto il prisma, di cui in realtà le categorie dei prismi fanno parte anche i parallelepibbidi e i cubi, quindi come primo obiettivo della lezione di oggi sarà definire che cos'è un prisma. Vedremo inoltre come possiamo classificare diversi tipi di prismi in base al poligono di base e infine vedremo come possiamo distinguere i prismi retti da quegli obliqui. Di più vedremo come all'interno della categoria dei prismi retti possiamo identificare i cosiddetti prismi regolari. Cominciamo dunque dalla definizione. Il prisma è un poliedro delimitato da due poligoni che devono essere tra di loro, congruenti e paralleli. Questi poligoni vengono chiamati basi del prisma. Oltre a questo avremo tanti parallelogrammi, attenzione, questa è una bella differenza rispetto al parallelepipedo. Questi sono parallelogrammi non rettangoli e devono essere quanti sono i lati dei poligoni di base. Quindi se facciamo riferimento a questa figura vedete questa è una delle basi, in particolare è un pentagono, questa qua sotto è l'altra base e questo è un esempio di faccia laterale. E possiamo vedere chiaramente che avremo tante facce laterali quanti sono i lati del nostro poligono di base. Quindi questa è la prima faccia, la seconda, la terza qua dietro, la quarta e poi la quinta. Avendo tanti tipi possibili di poligoni di base per i nostri prismi, si è deciso proprio di classificarli, cioè più che altro di denominarli in base al poligono di base. E come vedete qui abbiamo tre esempi, ma ne potremmo fare infiniti perché chiaramente possiamo partire dal caso più semplice, quindi dal poligono più semplice ovvero il triangolo e quindi come vedete qui la base di questo prisma è, sono anzi due triangoli, quindi noi diremo che questo è un prisma a base triangolare, ma da qui possiamo salire e considerare qualsiasi poligono di base. Ad esempio qui abbiamo un trapezio, è uno dei tanti possibili quadrilateri che possiamo considerare come base del trapezio, del prisma, e quindi abbiamo un prisma a base trapezioedale. Se fosse stato un rombo sarebbe stato un prisma a base romboedale e così via. Di nuovo un esempio con il pentagolo, ecco qui un prisma a base pentagonale. Ora è chiaro che avendo questa grande varietà di figure non possiamo, come nel caso del parallelipico e del cubo, dare un valore preciso, fisso più che altro, del numero di facce, spigoli e vertici di un prisma, perché questo cambierà a seconda di quello che è il poligono di base. Ad esempio, in questo caso abbiamo le due basi e poi tre facce laterali, quindi abbiamo cinque facce. Qui invece abbiamo sempre due basi, a cui si aggiungono però cinque facce laterali, quindi abbiamo sette facce in tutto. Una cosa però sarà sempre valida, ovvero la relazione di eulero che lega il numero di facce, vertici e spigoli in un poliedro convesso. avrete notato una certa differenza tra il prisma che ho mostrato nella prima pagina, quando sono andato a definire che cosa è il prisma, e quelli che ho mostrato successivamente. In particolare, il primo sembrava un po' storto, infatti rappresentava un prisma obliquo. Io avevo velocemente accennato l'esistenza dei parallelepipedi obliqui o non rettangoli, diciamo. Qui è particolarmente importante vedere la differenza tra prisma retto e prisma obliquo. Fermo restando, che poi andremo solo a vedere le formule per il prisma retto, però è importante che voi conosciate la differenza e sappiate distinguere gli uni dagli altri. Andiamo a vedere la differenza. Un prisma retto è un prisma in cui gli spigoli delle facce laterali sono perpendicolari alle basi. E qui avete un esempio, no? Abbiamo di nuovo un prisma a base triangolare. Come vedete, questo, lo spigolo laterale, forma con lo spigolo di base un angolo di 90 gradi e questo sarà vero dappertutto. Questo ha due importanti conseguenze. La prima è che le facce laterali saranno dei rettangoli. Quindi nel caso di generale sono dei parallelogrammi. In questo caso del prisma retto saranno dei rettangoli. Quindi, seconda conseguenza importante, l'altezza del prisma, ovvero la distanza fra le basi, va a coincidere con lo spigolo laterale, che è esattamente quello che succedeva nel caso del parallelepipedo rettangolo e del cubo. Invece, nel caso generico in cui, appunto, lo spigolo laterale forma un angolo qualsiasi, ad esempio, vedete, qui forma un angolo acuto, qui forma un angolo ottuso, allora diremmo che il nostro prisma è obliquo. E sono le conseguenze di questo fatto. In primis che le facce laterali non sono dei rettangoli, ma saranno genericamente dei parallelogrammi. Secondo, cosa più importante per noi da punto di vista delle formule, è che l'altezza del nostro prisma non va a coincidere, questa è l'altezza, non va a coincidere con lo spigolo laterale. Alle superiori vedrete anche come studiare questo tipo di figura. Vi anticipo già, chiaramente qui cadrà di nuovo il nostro amico Pitagora, però non le andremo a vedere nel corso di terza media. Quindi, noi andremo a studiare solo i prismi retti. All'interno dei prismi retti noi andiamo a individuare un'altra categoria, quindi un sotto insieme, che chiameremo i prismi regolari. Quindi, un prisma verrà detto regolare se, e queste due condizioni che vedete qui, devono valere contemporaneamente se questo prisma è retto e se il poligono di base è regolare. Quindi, cosa significa? Il poligono di base deve essere un poligono equilatero, tutti i lati congruenti tra di loro, e equiangolo. Quindi, cosa dovrà essere? Un triangolo equilatero, un quadrato, un pentangono regolare, un esagono regolare, e così via. E qui vedete già due esempi. Per esempio, questo è un prisma retto, che ha per base un triangolo equilatero. Quindi, questo prisma non solo è retto, ma è anche regolare. Questo invece è un prisma, sì retto, come vedete, questi spigoli formano angoli 90 gradi, ma ha per base un trapezio, degnissimo poligono, ma non è regolare. Quindi, a sua volta, questo prisma sarà retto, ma non regolare. Nella prossima lezione andremo finalmente a vedere le formule per l'area e il volume del prisma, in particolare del prisma retto, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.